Vittoria è straordinaria, non riesce a mangiare con la forchetta e ci litiga un pochino, poi alla fine vince lei. Ma non puoi mettertelo in bocca amore? Vabbè, adesso sì, adesso sì amore. Non ha papà? Ma che è quello? Vittoria non vuole mangiare con le mani, perciò cerca di mangiare con la forchetta, ma non ce la fa, piccolina di casa. Grazie a tutti.